Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive. Oggi vi presentiamo un lavoro di estetica esterna su questa magnifica Audi SQ8 di un cliente svizzero che viene direttamente da Zurigo che ci ha ordinato il kit estetico completo della Maxton Design. La Maxton Design un'azienda polacca con la quale abbiamo iniziato una collaborazione da neanche un anno da sei otto mesi fornisce veramente dei pezzi molto belli soprattutto per un'ampia gamma di vetture cosa che era praticamente scomparsa nel panorama di fornitori quantomeno in Italia. Chi è più vecchio di me o alla mia età o è poco più giovane si ricorda una ditta che si chiamava Lester di Novara che ha prodotto migliaia migliaia di particolari estetici su macchine di tutti i generi. Poi purtroppo per vicissitudini loro l'azienda è fallita sono tanti anni che la Lester non c'è più e quindi si è creato questo buco di diciamo di fornitura cioè proprio non riuscivamo più a trovare pezzi per estetici esterni praticamente per nessuna macchina. C'era rimasta la Rieger che è un'azienda tedesca che però è più settorializzata su vetture appunto tedesche BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, tutte altre non le prende neanche in considerazione quindi per un certo numero di anni la parte, il segmento estetica esterna è stato lasciato un po' da parte sia un po' diciamo si è imploso un attimino su se stesso. Da quando abbiamo preso questa è stato un peccato anche a livello di fatturato di clienti così è stato un peccato perché in 34 anni anni fa la parte di estetica esterna era veramente uno degli aspetti dove lavoravamo di più perché poi si trascinava dietro anche la parte carrozzeria, lavori particolari che adesso non si fanno più ovviamente ma eravamo supportati da aziende che ci fornivano i pezzi quindi se non hai i pezzi l'aria non la monti e non la vernici. Venendo nello specifico a questa macchina quindi abbiamo selezionato Audi Q8 SQ8 non RSQ8 perché c'è anche la RSQ8 anzi fra le altre cose se andate sull'archivio elaborazione purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di fare il video. Una settimana abbiamo una settimana fa abbiamo fatto una bellissima RSQ3 color verde shock sulla quale abbiamo fatto anche le pinze dei freni verdi e anche lì abbiamo fatto il kit estetico della Maxon Designer. È stato un peccato non fare il video ma come vi ho detto spesso l'operatore non è che vive da noi, mangia e dorme da noi ma lo abbiamo a cadenze regolari e quando ci sono delle macchine interessanti e lui non c'è purtroppo dobbiamo saltare il video o magari fare al massimo uno short. Qua oggi abbiamo l'operatore riusciamo a descrivere il lavoro che abbiamo fatto su questa vettura. Io direi partiamo dalla parte laterale queste sono le minigone laterali ecco come potete vedere anche il discorso di essere diciamo dei componenti eleganti. Io considero sempre il fatto di andare ad applicare o toccare delle macchine che sono già perfette e veramente molto difficile modificare. Anni fa uscivano delle macchine base diciamo così non dico all'epoca delle 128 al 127 perché parliamo del giurassico però macchine successive le prime punto le 1 ecco già una generazione più più recente le golf 3 le golf 4 le fiesta terza serie quelle quelle clio quelle macchine lì su quelle macchine si riusciva a fare un lavoro di modifica estetica sia interna che esterna perché ovviamente erano delle macchine che uscivano diciamo in versione base poi c'erano le versioni più performanti che avevano le appendici un pochino più sportive e questo ci dava la possibilità di trasformare o di avvicinare la versione base a una versione più sportiveggiante che faceva parte della gamma di quella di quella vettura quindi abbiamo fatto tantissimi lavori con questo con questa finalità oggi invece è praticamente impossibile cioè se io prendo una una bmw serie 3 e voglio modificarla in bmw m3 faccio prima a vendere quella macchina a comprare le m3 spendo meno spendo meno mentre una volta se vi ricordate le bmw e 36 o anche 46 c'era il kit di trasformazione dalla versione base alla versione m3 con relativamente poco a quell'epoca erano carrozzerie molto più semplici esistevano appunto l'ester piuttosto che altre ditte che facevano proprio il kit il pacchetto completo per urti anteriore per urti posteriore passa ruota perché le m3 avevano chiaramente anche i passa ruota allargati si piazzavano dei distanziali o si cambiavano i cerchi si mettevano con un et diverso minigonne macchina finita era veramente difficilmente diciamo verificabile che non fosse una vera m3 poi ovviamente il motore questo è un altro paio di maniche però a livello estetico si riusciva a fare un lavoro veramente molto simile alla versione top di gamma stesso dicasi per le golf per le gt per le clio con le versioni rs cioè si riusciva a fare un ottimo lavoro andando avanti diciamo nel discorso di questa macchina il posteriore quindi questo sempre dei pezzi aggiunti la maxton diciamo che uno dei vantaggi di questa ditta è che non andiamo salvo rari casi e non andiamo a togliere un pezzo originale e a montarne uno modificato sono sempre applicati in aggiunta questo esempio un estrattore che è stato applicato sulla parte la parte grigia e la parte di serie questa che fate una plastica rigida non è la stessa plastica degli angolari per dire è una plastica rigida che bisogna imbullonare da sotto e va a vedete che è fatta proprio seguendo perfettamente la sagoma con gli scassi gli scalini si va a incastrare perfettamente sul pezzo di serie quindi questo denota una una cura nel dettaglio i pezzi sono perfetti cioè non è che abbiamo ci arriva una partita di lo montiamo una volta la seconda volta lo montiamo una dimma diversa come se fosse pezzi in vetro resina sono tutti uguali in gergo si dice fittano in maniera perfetta quindi estrattore posteriore fatto in questa maniera c'era anche la versione senza le alettine il cliente ha scelto questa per completare il giro laterale abbiamo applicato questa specie di non so neanche io come definirle di alettine posteriori che si vanno aggiuntare esteticamente in maniera laterale hanno la stessa quota quindi il vantaggio è di avere una quota unica partendo dal posteriore laterale cioè angolare laterale e poi la parte anteriore con questa chiamiamola lama anche in questo caso la parte diciamo che noi abbiamo aggiunto è questa specie di doppia sporgenza che si va applicare su questa parte qua quindi il grigio è la base sulla quale noi abbiamo applicato poi si va a rastremare con due alettine che guarda caso riprendono l'anteriore quindi da un punto di vista estetico già la macchina è veramente imponente così la rende ancora più cattiva quello che abbiamo suggerito al cliente che faremo però lì bisogna farlo per forza non sono dei pezzi e rendere il muso per renderlo più cattivo è andare a fare un discorso di total black sul muso per cui andremo a smontare e verniciare questa parte qui e questa parte sotto in maniera tale da verniciare nello stesso colore della carrozzeria immaginatevi un muso così imponente con la parte tutta nera diciamo che fa una certa un certo impatto una certa impressione gli ultimi pezzi che abbiamo montato questo è lo spoilerino posteriore quindi si chiama lower spoiler che va montato sul su questa parte qui e poi deve arrivarci perché non era disponibile lo stiamo aspettando ci sarà uno spoilerino simile a questo che verrà applicato sulla parte superiore quindi avremo due spoilerini sarà molto simile a questo adesso chiaramente scenderà un pochino di più sul laterale però in grosso modo ricalca questo ecco quello che dicevo è l'eleganza dei pezzi il famoso detto vedo e non vedo cioè apparentemente uno vede questa macchina non si accorge che è stata stravolta se l'occhio cade in maniera un pochino più attenta si accorge che ci sono state fatte che sono state fatte delle modifiche dal mio punto di vista modifiche non troppo invasive io sarà perché ho qualche anno sul croppone e non mi non mi piacciono non mi sono mai piaciute neanche vent'anni fa quando ho iniziato questo lavoro 25 anni fa iniziato questo lavoro ho sempre odiato le modifiche alla fast and furious le modifiche con le aperture delle portiere di gabbiano quelle cose che stufano dopo sei mesi andavano addirittura a rovinare le macchine questo va a bellire la macchina quindi è un qualche cosa soprattutto non andando a fare diciamo nulla di invasivo un lavoro del genere è perfettamente reversibile domani il cliente vende la macchina un concessionario il concessionario dice io la voglio esattamente come era stock togliamo via tutte le parti non viene lasciato nessun buco nessuna parte rovinata cosa che su modifiche ne ha fatte tanti anni fa così nascevano e così morivano con la macchina l'ultimo appunto che facciamo quindi il kit estetico diciamo adesso mancherà quella quella parte che però finiremo a settembre perché non ce la facciamo più a farlo arrivare prima della chiusura la parte estetica appunto quando arriverà lo spoilerino verniceremo la parte anteriore la peculiarità di questa macchina che esce già con un sound booster doppio avendo messo la macchina sul ponte ha le due i due risuonatori che però lavorano solo con una modalità unica infatti il il trucco su questa macchina qua è tenere buoni due risuonatori montare una centina di comando che a questo punto si gestisce col app in maniera tale da avere una come dire uno spettro di sonorità molto superiore rispetto a quello di serie spendendo una cifra enormemente inferiore rispetto a quella di mettere tutto il kit quindi direi che anche questo discorso che riguarda il sound lo proporremo al cliente prima di consegnarla e secondo me un ottima è un ottimo consiglio un ottimo suggerimento eventualmente lo svilupperemo a settembre quando andremo poi a completare la macchina io direi che anche per questa audi sq8 per oggi è tutto la troverete poi nel sito nell'archivio elaborazioni con l'apposita scheda e il relativo video per qualunque genere di informazione potete sempre contattare in sede 0 2 7 3 8 3 1 7 5 consultate il sito www.onigiri.it cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale perché così ci date una mano uno per rimanere sempre informati su quello che noi facciamo e due per darci una mano per far crescere il canale un saluto alla prossima un saluto alla prossima